Sulla neve o al mare, il capodanno degli italiani fa i conti con il maltempo. Per gli esperti durerà tutta la settimana. Vito Daniello. Si è tuffato da Ponte Cavour nelle acque del Tevere. Mister Ok, anche quest'anno, ha rispettato la tradizione e Roma ha salutato così l'arrivo del 2018, che si è presentato nella capitale, così come in gran parte del paese, con nuvole e piogge.